da quando sono nati figli diciamo che è stata un po una cosa naturale bisognava accompagnarli in giro a scuola fare sport eccetera e abbiamo deciso di fare un investimento invece di comprare una seconda macchina abbiamo comprato con più o meno la metà dei soldi di un'utilitaria forse anche meno una cargo bike io aggiungerei anche che avete comprato una cargo bike con quello che avreste speso con l'utilitaria tra bollo assicurazione benzina manutenzione una bici fantastica nel senso che anche per me che non sono una sportiva mi permette di arrivare quasi ovunque e con due bambini a bordo è una bici molto stabile comoda da portare leggera si mette bene sul cavalletto è veramente facile per chiunque con questo acquisto abbiamo davvero rivoluzionato l'organizzazione della nostra famiglia e scoperto un nuovo modo di girare in città e di portare i bambini ma anche noi poi in giro per roma qui giriamo a sinistra c'è la c'è il muro lo strappo c'è lo strappo di Antonio Gelovesi vai andiamo aspetta che alleggerisco qua questa con due figli perché Giulio e Caterina sono furbi hanno la trazione elettrica ovviamente ma io voglio far vedere che non sono da meno la facevo pure senza elettrica però porca miseria con due bambini con l'elettrica è meglio tu neanche con da sola no non ci pensavo davvero comunque da lo strappetto eh siamo arrivati meno male mi sono entusiasmata subito all'idea però pensavo che l'avrei usata appunto casa scuola e qualche giretto invece in realtà adesso perché io uso tanto la macchina per andare al lavoro perché lavoro fuori roma e praticamente ormai invece tutto quello che facciamo dentro roma lo facciamo in bici ed è stata una liberazione per me è una scoperta di un nuovo mondo proprio guarda che grandissimo mitico eccoci qua arrivati alla scuola come si chiama questa scuola ermene gildo allora ci si chiamava qualcuno è arrivato anche frario adesso ci possiamo salutare ciao ciao ciao